Non sono seccato perché vi capisco i ragazzi, vi ripeto, noi non siamo in grado di giocare in grado, insomma non abbiamo nel ritmo di niente. Poi ne ho le occhiette. Stamattina abbiamo fatto una lora, che fa le 70 km e mezzo, ma c'è la loro città, non è facile, non abbiamo praticamente mai riposato, tramite una metà giornata, noi siamo in condizioni in cui dobbiamo essere in questo momento, in questo momento non siamo in grado di fare una partita e lo discorso è solo che qualche giocatore si incedente e si sacrifica, anche se anche quelli più bravi, che ritengo più bravi, non riescono a rendere quello che possono o vogliono. Devo chiedere, due giocatori che sembravano inizialmente non rientrare nei programmi della società o suoi, questo è quello che posso spiegare, cioè Enze e Pizarro hanno giocato dall'inizio, hanno giocato addirittura Enze 90 minuti, è cambiato qualcosa nelle sue scelte, nelle sue gerarchie? Enze e Pizarro possono far parte della Roma del campionato oppure no? è cambiato che oggi ho a disposizione quattro difensori, è vero che poi Rossi Pule non ce la faceva più, lui ha giocato quello cappettino che è sicuramente un buono e un difensore. Grazie. 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 Grazie.